Grazie a tutti. In primis perché abbiamo partecipato a un evento solidale, come sapete quello che è successo in Abruzzo, in Aquila in particolare, Aquila che è una terra di rugby, c'è stata una partita per ottenere fondi di beneficenza a Milano, l'amatore Milano che trovava una squadra, una super squadra in vito che si chiama Le Severe in Italia, una squadra di tantissima tradizione. Noi abbiamo fatto un speciale dedicato a quell'evento, quella partita lì, 30 minuti con l'obiettivo di trasmettere quello che è stata quella partita. Oltre al gioco, oltre a tante altre cose che sono successe, l'importante era la meta. Il rugby è un po' l'obiettivo della meta, la meta nostra era essere vicini al mondo dell'Aquila, dell'Abruzzo e oltretutto il bello è che siamo stati anche premiati perché questo speciale è partecipato a questo festival sportivo dedicato al mondo della televisione, ai filmati di tutto il mondo. Quindi siamo stati nominati e premiati con menzione d'honneur. Siamo andati al Palazzo Marino e abbiamo ricevuto questo premio, un premio che condividiamo con tutta la nostra redazione e facciamo partecipare a RTV perché da dieci anni ho questo programma del rugby e il fatto che ci hanno incaricato a fare questo speciale ovviamente ci riempie di orgoglio.